E' vero, l'anno scorso è stata dura, ad oggi però abbiamo la stessa squadra e anche se siamo arrivati decimi siamo ancora un buon team che certo non ha reso al meglio. Quindi restiamo umili come sostiene il mister e io credo che se giochiamo uniti e abbiamo tutti la stessa mentalità vincente, sono convinto che potremo fare meglio dello scorso anno, anzi sono convinto che potremo anche vincere qualcosa. E' vero che questa settimana può essere una buona settimana.